Il Presidente Mascuale del Quarrato ha visto complimenti del Presidente dell'annata dell'Aielo che tutto lo sta facendo con il Quarrato a calcio con gli altri ragazzi e con la prima squadra. Sì, diciamo che i ragazzi sono andati a tutti, hanno giocato la grande tutta l'anno, hanno vinto un paio di domenici, non sono andati tanto bene, ma per il resto insomma, se non volessero, non sono andati tanto bene. Se vinto questo campionato lì, che era tanto, non ci si doveva a ritornare nelle regionali, ora aspettiamo il lay-off di l'anno. Speriamo un bene Presidente, anche per il bene del calcio Pistole, di Quarrato America, sicuramente sì, merita le città. Anche visto negli anni precedenti cosa ha fatto, ha meritato le processioni, perché non ha meritato le processioni. Un anno fa come l'interno, ma stiamo a ripangare il passato, perché secondo me, io sono dunque, e mi caccio ci vuole un po' di fortuna. Purtroppo noi l'anno scorso non se ne è avuta punta, perché noi si è girato quarti, se non è andata, eravamo quarti, che l'anno scorso non si è girato, se non è andata, eravamo quarti, se non è andata, eravamo quarti, se non è andata. Non mi faccio tutti, non mi faccio i complimenti. Grazie a tutti, ci vediamo.